Ciao ragazzi e bentornati in questo unissimo video, oggi siamo qui per parlare di un sito che usa l'intelligenza artificiale che se create video, siete dei content creator che specialmente magari non vogliono mettere la propria faccia o comunque vogliono creare dei video virali da ovviamente pubblicare su TikTok, su Instagram, nei Reels, su YouTube o su tutti e tre ovviamente Bene, questo sito ragazzi fa il caso vostro, si chiama Flicky, vi lascio il link in tal caso comunque in descrizione ma sul motore di ricerca basta cercarlo e vi appare subitissimo e come possiamo vedere una volta ovviamente creato ragazzi l'account vi ritrovate in questa pagina qui ed è veramente semplicissimo, infatti basta schiacciare il nuovo file e come possiamo vedere ci dà insomma la possibilità innanzitutto di mettere la lingua quindi se vogliamo fare ad esempio un video inglese, quindi globale, possiamo farlo se vogliamo farlo invece nella nostra lingua, ovvero quella italiana, possiamo benissimo farlo insomma la lingua che volete voi potete scegliere anche se fare solo audio, quindi senza il video oppure il video che include sia audio che ovviamente video poi ovviamente le proporzioni chiaramente del video e in questo caso facciamo un esempio direi che così si capisce un po' meglio mettete il nome del file e come possiamo vedere ci appare questa schermata qui nel suggerimento di idee ragazzi dovete scrivere quello che voi volete all'interno del video quindi in poche parole il contenuto, ad esempio io potrei mettere, voglio creare un reels o comunque un video da 60 secondi sulla storia dei romani, che chiaramente in un minuto è tra le altre cose molto difficili da riassumere però esempio possiamo fare fatti storici, possiamo fare anche dei tutorial su come fare magari una torta o qualsiasi cosa vi venga in mente e tra le altre cose come possiamo vedere potete selezionare uno di questi tools qui infatti potete selezionare automaticamente video e immagini dalla libreria stock per le scene potete usare questa intelligenza artificiale che potete anche cambiare lo stile del video quindi potete fare il fumetto, versione anime, ad esempio faccio versione anime così proviamo questo stile qui però vedete ci sono anche altre cose che potete insomma provare quindi mettiamo un minuto di durata massima, facciamo finta che lo dobbiamo pubblicare su TikTok esempio e schiacciamo invia e adesso sta ovviamente lavorando, sta creando il video quindi ci vediamo appena finisce. Ok come possiamo vedere il video è stato creato, a destra vediamo già che è tutto versione anime quindi ha rispettato le nostre richieste, ovviamente il video l'ho giusto guardato al volo non ha fatto neanche in tempo in realtà iniziare a parlare ovviamente della storia dell'impero romano credo che sia dovuto al fatto che comunque dura un minuto e quindi non potendo durare più di questo si è fermato però volendo io potrei farlo continuare e fargli generare altre scene quindi farlo durare più il video fatto sta che guardate insomma l'esempio che è uscito adesso vi mostro solo due cose al volo poi lo guardiamo si può modificare ovviamente ragazzi la scena quindi se avete già in mente un copione potete riscriverlo quindi cambiarlo e poi tra le altre cose potete anche cambiare gli avatar, le immagini usate eccetera comunque ragazzi vi faccio vedere al volo il video ve lo faccio vedere in maniera completa così vi fate un attimo un'idea della qualità insomma dei video che poi escono ciao a tutti, benvenuti in questo viaggio affascinante attraverso la storia degli imperatori romani delle loro conquiste e dei loro regni cominceremo dalla nascita della Repubblica Romana un periodo ricco di cambiamenti che ha gettato le basi per l'ascesa dell'impero parleremo degli imperatori più famosi come Augusto, il primo imperatore, e Giulio Cesare che ha giocato un ruolo cruciale nella transizione da Repubblica ad Impero non dimenticheremo di menzionare gli imperatori più controversi come Nerone e Caligola le cui azioni hanno lasciato un segno indelebile nella storia ci addentreremo anche nelle imprese edilizie ci addentreremo anche nelle imprese edilizie di questi grandi leader i cui monumenti, teatri e anfiteatri romani sono ancora visibili oggi esploreremo inoltre le guerre, le conquiste e le sconfitte che hanno segnato l'espansione e l'eventuale crollo dell'impero romano preparatevi per un viaggio straordinario nella storia dove le leggende si mescolano alla realtà e il passato prende vita ok come possiamo vedere ragazzi questo è il video che ci ha creato e oltre ad essere di una qualità veramente elevatissima è tutto completamente fatto dall'intelligenza artificiale quindi con questo sito ragazzi potete veramente magari con alcune vostre modifiche, perché no che migliorino ancora di più il video creare dei contenuti che vanno viralissimi magari potete anche farlo in inglese quindi magari farlo su un territorio sicuramente globale ecco e non solo magari dell'Italia ecco quindi vi possono arrivare cioè puoi creare video che possono arrivare ovunque anche perché poi mettete la lingua inglese fa tutto lui, siete a posto poi ovviamente dovete solo completare magari alcune cosettine aggiungere alcune cosettine ovviamente qui ripeto ho messo la storia impero romano che era impossibile ovviamente da riassumere grosso modo in un minuto però volendo vedete c'era qui questa sezione che potevo generare altre scene ripeto eccetera quindi potevo insomma continuarlo ecco però sicuramente se avete idee volete creare dei video da un minuto brevi su determinati argomenti questo sito ragazzi può veramente farlo in una maniera assurda tra le altre cose è pure semplicissimo da usare ripeto quindi per scaricare quel video basta schiacciare scaricamento vedete download file e ve lo scaricate tranquillamente nel vostro computer come ho fatto io vedete adesso l'abbiamo qui c'è poi in alto a destra ovviamente il sito ma insomma questo va più che bene insomma non dà neanche fastidio quindi è veramente un sito super super utile fatemi sapere se lo userete se si per cosa e niente vi lascio il link ovviamente comunque in descrizione così potete tranquillamente utilizzarlo e farmi sapere un attimo come vi siete trovati detto questo noi ci vediamo in un prossimo video sicuramente sull'intelligenza artificiale grazie a tutti